Quindi, cioè, voglio dire, datti una cazzi di calmata perché non sei Dio, non sei il re di Twitch Non sei Odino, non sei Odino No, ma tu ce l'avevi con Rubino, no? No, ma va, ma che con Rubino? No, attenzione, attenzione Io volevo cazzi già, scusa Rubino, scusa, ti chiedo scusa Che devo fare? Io pensavo che non era così Che grave, io pensavo che non era così Ma cosa sta succedendo? Sto a seguito, ti chiede scusa, allora che a me da questi non me ne... No, no, no Mi fa morire quando, no, no, chissà che cazzo dicono Ok, eh, ok poi Cazzo sta succedendo Oh, incredibile No, no, no Io vi giuro, stasera sto male No, 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 no Ciao, 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 ciao So che vuoi denermi qua Però andrò Per la mia strada Come vuoi A tua... A tuo piacimento Ragazzi Ci vediamo La prossima volta Mamma mia, figa Che è? Eh, cazzo, sei sentito veramente una sinfonia Sta schioppando sta sedia, eh? Sì, 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 è completamente distrutta Sì, sì, sì La cambierò, si spera Eh, sì Sono l'unico streamer senza sedia Ma non sei l'unico Oh, ma vola, per favore Come il Milan? Sì Come si chiama? Lo conosco sicuro No, non lo conosci perché Non è notato No, beh, cosa vuol dire? Conosco Gullit Conosco Van Basten Conosco... Il signo di Utrecht No, dimmi 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 come si chiama Eh... Desti Maurizio Porco Giuda No, comunque vi prego Non mettete i jumpscare perché Porco... Però comunque vediamo se non riesco a non ribattarmi Marco 2 Va bene Tutto a posto Allora, iniziamo Iniziamo da qua Questa è la porta d'ingresso Qua c'è... Un quadro Un anziano Un quadro Un quadro di... Non c'è il nome Un quadro Un quadro Di base non è che la cultura deve essere obbligatoria No, no, no Questo credo sia un quadro di Botticelli O di Caravaggio Forse la frutta Caravaggesca Più Caravaggesco Ma non credo Ok, ok Non è abbastanza buio secondo me Ok, qua c'è, vabbè Il portone è quello dove si entra Qua c'è il citofono Ah, vedi che c'è il citofono allora? Qua c'è il citofono Eh, ma io te l'ho detto che c'era Ma chiesto C'è dei coglioni veri e propri Vabbè Vabbè Qua c'è un... Insomma Vabbè Lì c'è un'altra cosa Con calma Con calma Con calma Vabbè Qua c'è un mobiletto Un mobiletto di sterco di drago Bello Prosperoso E qua c'è un legno 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 di... Credo di... Dico, voglio mandare il link del gruppo Telegram Devo star notire, scusate Ciao Eh, ciutze me la prego Scusate, mi sono... Facevo sempre così a scuola Te lo dico, sono un pazzo Ora non posso dire che mi devi succhiare Perché no, no Non posso essere così volgare Perché in queste barre son bravo Son shade Perché te lo dico Non sono mai stato Non sono un coglione Tipo Ponzio Pilato Questo un dissi Queste barre sono bravo Tu nitrisci Te lo dico Sai che bravo Non finisci Questo frizz è troppo bello Per essere vero Per essere me Perché sono una merda Ehm Comincia a degenerare un po' La situazione Comincia a degenerare un po' Con quel filtro Comincia a... Sì, fa un po' Pazzo ridere Ma puoi farlo venire qua Il trono di sta minchia? No Dai a Babili Porco Dio Non me ne vado Mi sta a farelo del culo Cioè, porco Dio Basta Fai venire qua Fallo venire qua Il trono Della minchia Vieni qua Vieni qua Ma Natale mi spieghi No Ma che cazzo di problema hai Ma scusami Tu non ti fai vedere In camera Fai figo Rompendo i coglioni In una diretta Che non è la tua E poi neanche ti fai vedere E vedo un ragno Nella Nella vacca Scusa ti posso interrompere Giulia Un secondo Vorrei chiedere a Rubino Il motivo per cui ha sorriso Quando ha letto della doccia No niente Stavo Immaginando la scena Cioè nel senso Quando uno racconta una Una storia Io immagino le scene Eh vabbè Io faccio così Ti stai immaginando Anche il ragno Adesso Esatto Ok 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 Vai scusami Scusami Perché devo Mi guarda Ma madre dice Sbagliato forse Comunque io Ho il terno Scarichissimo Devo chiedere Per farci la live No ma non c'è problema Sei stata molto Molto carina e simpatica Vai tranquilla Ci rivedremo In un Cioè nel senso Non è C'è dal punto di vista Live Vabbè No nel senso Non è per Cioè Simpatica Grazie Comunque Di inclinazione Spirituale Celeberrima Perdonami Trovo difficoltà Vabbè Simpatica Grazie Scusami Veramente Scusami Se vuoi pure Cacciarmi dalla diretta Diciamo che capirei No no prego Prego Eh Non per te Ma No vabbè No va bene Va bene Il sorriso Vatto Scusa basta Mi sono lotto Il cazzo Scusami ma sto veramente I passendo Cazzo Il mio ex Aveva È 2002 Calcola Io sono 2003 Quindi aveva Amica di green Amica di green Io mi so 14 anni Così Ora va bene A 18 Proprio Rubino anche tu Avrei avuto 14 anni Nella tua vita No io sono andato Maggiore Ma è lo stesso Testa di cazzo Sta scherzando Però è lo stesso Non hanno tagliato i capelli Vabbè ogni tanto Li pettino in maniera di Non è vero Ivan comunque Non ho detto nulla Stavamo scherzando Ok Ciao Oh Natalia ha salutato Ivan Ho levato il microfono Ciao Natalia Sei fantastica Trovo un attimo La mia La mia comfort zone Cosa c'è Ah vengo lì Ok I suoi metodi Per far capire Cosa devo fare Bellissimi Ok Cosa devo fare? Devo cantare Cazzo devo fare? Ma che cazzo Cos'è il suono della mia sconfitta? Ma Cosa devo fare? Con che facilità? Oddio Ma scusami Ma Ma non pensavo Di avere questo effetto Ciao Ma Ma scusami Ma Ma io Ma io Ma io Non ho fatto niente Ma Mi stanno dicendo Fai entrare Franco Mi sono controllato Vabbè Ho la mia scheda audio Non esageriamo Sono arrivato Questa bottiglia Abbastanza Non lo so Piccola var review Non ho Fatto Ho fatto? Fatto